29 aprile 1906. Nasce ad Acqualagna, in provincia di Pesaro e Urbino, Enrico Mattei. Partigiano durante la Seconda Guerra Mondiale, nel 1953, Mattei diventa presidente dell'ente nazionale Idrocarburi. Con l'Eni, Mattei cerca di opporsi al cartello delle Sette Sorelle per l'approvvigionamento petrolifero nei paesi arabi. Il 27 ottobre 1962, Mattei muore in un misterioso incidente aereo in provincia di Pavia. Le autorità giudiziarie non hanno stabilito se si tratti di morte incidentale o omicidio.